Ciao ragazzi, questo video è dedicato a un'escursione che ho fatto a Zanzibar, quindi il l'isola di Prison Island e l'isola di Nakupenda, sono due isole vicine, tra loro ci si arriva imbarcandosi da Stone Town che è la capitale, allora Prison Island è un'isola che quando divenne di proprietà inglese fu costruita una prigione ma non venne mai utilizzata come prigione ma bensì come stazione di quarantena perché all'inizio del ventesimo secolo si stava diffondendo la febbre gialla, potete trovare anche una grossa colonia di tartarughe giganti, Nakupenda invece è un'altra piccola isola, si può dire che è una lingua di sabbia che sparisce con la marea, quindi durante il giorno la si può visitare e verso sera sparisce perché si alza la marea, quindi nell'ordine in questo video vedrete Prison Island, Nakupenda e un di lunghi che è il villaggio in cui vivevo io, il villaggio, il paese, ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.